Questo come si spegne? Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti agli studenti naturalmente che sono i destinatari di questo workshop. Benvenuti naturalmente ai nostri relatori che ringraziamo di cuore per la possibilità che ci danno di realizzare questo contatto con i nostri studenti. Io sono il professor Vatalaro, sono professore di telecomunicazioni e sono un membro del Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Vi do il benvenuto e poi passerò la parola al professor Giordani che è alla mia destra, che immagino tutti i ragazzi conoscono in quanto è il presidente del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale. Alla mia sinistra invece c'è il professor Vizzarri che tiene anche lui un corso da noi, oltre ad essere ricercatore di Radiolabs, che è un consorzio con cui noi collaboriamo, un consorzio di ricerca. In particolare oggi è il pivot della giornata perché l'ha organizzata lui, ha scelto le persone, ha invitato i relatori e quindi siccome io mi dovrò assentare non per tutto il tempo ma per, presumo, un'oretta perché si è creata la sovrapposizione con una conference call a cui non ho potuto dire di no, lui seguirà tutta la giornata e farà effettivamente da chairman della manifestazione. Niente, due parole soltanto per non rubare tempo ai relatori. Questa manifestazione è già il terzo anno, vero che la teniamo? Si è già svolta un certo numero di volte e negli anni è un po' irregolare il numero di volte che facciamo questo workshop durante l'anno ma mediamente lo facciamo due volte, quest'anno l'abbiamo fatto solo una volta ma ci fu un anno in cui l'abbiamo fatto tre volte quindi mediamente si svolge uno o due volte all'anno. Il motivo, l'ho già detto prima, è un motivo che per noi è molto importante, cioè mettere in contatto i nostri studenti in particolare quelli che sono presenti oggi, sono, ho fatto una piccola verifica prima, sono studenti credo tutti o quasi del quint'anno quindi anche vicini alla laurea, qui abbiamo al tavolo e in prima fila rappresentanti delle risorse umane di importanti aziende poi loro vi diranno esattamente cosa fanno e di cosa si occupano le loro aziende, sono comunque aziende molto importanti e quindi sono le persone più adatte proprio per essere messe in contatto con voi ragazzi e ragazze vicini alla laurea quindi se anche loro sono d'accordo immagino che qualcuno di voi avrà piacere di dare un indirizzo e-mail o un curriculum per eventuali possibilità future. L'obiettivo quindi è quello di sostanzialmente realizzare questo contatto, di illustrare quali sono le possibilità che offre il mondo del lavoro ai ragazzi e anche di far vedere, di questo se ne occuperà oggi il professor Mazzenga in un intervento, non lo vedo ma è sicuramente qui, eccolo in un intervento che sarà il primo dopo questa tavola introduttiva questa tavola rotonda introduttiva, vi darà una visione, un flash su uno dei nostri particolari corsi di studio è vero che voi siete già in dirittura di arrivo quindi ormai le vostre scelte le avete fatte ma non si sa mai, avete degli amici, avete dei fratelli più piccoli, eccetera eccetera per cui potrete dire quali sono i nuovi corsi nell'ambito dell'ingegneria gestionale che noi eroghiamo e che intendiamo erogare e quindi eventualmente potete dare delle indicazioni a chi si sia già iscritto o si stia per iscrivere ad ingegneria gestionale di Tor Vergata. Quindi io ho detto tutto quello che volevo dire, vi ringrazio, ringrazio tutti quanti e passerei direttamente la parola al professor Giordani. Grazie Franco. Anche a nome mio il benvenuto agli studenti e rappresentanti delle aziende se ricordo bene questo Franco è il sesto appuntamento di questo ciclo di seminari intitolato appunto a lezioni con le imprese in cui le tematiche sono sempre molto attuali in particolare quella di oggi sulle competenze digitali quindi quali sono le competenze digitali che si aspetta il mercato del lavoro da parte dei nostri studenti. Noi d'altra parte in ingegneria gestionale stiamo continuamente arricchendo l'offerta formativa, i nostri studenti lo sanno molto bene per esempio è ormai qualche anno che abbiamo attivato l'indirizzo in telecomunicazioni sia la triennale che la magistrale a cui è dedicato particolarmente l'evento di oggi ne abbiamo anche attivati degli altri di indirizzi e stiamo riscontrando un discreto successo da parte degli studenti sia in termini di matricolazione, la triennale, la magistrale e ci teniamo molto a questo tipo di attività anche perché poi siamo anche chiamati in sostanza a un contatto continuo con le aziende con le cosiddette parti sociali quindi grazie ancora agli organizzatori all'ingegner Vizzarri che con molta dedizione sta occupandosi di questi eventi che sono veramente molto importanti per il nostro corso di studio quindi nuovamente buon lavoro a tutti prego possiamo proseguire il lavoro allora grazie passiamo direttamente allora io passerei la parola ad Alessandro Vizzarri che farà diciamo da Cerman per tutta la giornata sì grazie grazie al professor Vatalaro, al professor Giordani buon pomeriggio a tutti io andrei rapidamente a introdurre gli interventi di oggi prima della tavola rotonda due parole su questo evento questo evento che come ricordava prima il professor Giordani è il sesto di un ciclo di seminari incentrato sugli skill e i risvolti nell'ambito lavorativo ringrazio anche le imprese che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questo evento oggi faremo il punto degli skill visti da chi si occupa di HR di Human Resources quindi che implicazioni hanno i nuovi skill per le professioni anche del futuro alcune delle quali sono ancora in via di definizione e di sviluppo e quindi sentiremo dalla loro esperienza sul campo quali sono i primi risultati le prime direttive io passerei subito la parola al professor Mazzenga Franco Mazzenga che ci illustrerà un po' i contenuti dell'indirizzo telecomunicazione e ingegneria gestionale grazie ok sentite adesso? andamme con questo che è meglio ok allora mi sentite? a posto allora alcuni di voi già mi conoscono se non altro perché vedo qui tutta una serie di miei studenti che sicuramente avranno un brutto ricordo per sottoscritto ma pazienza allora il compito mio oggi è quello di illustrarvi quello che è l'indirizzo della laurea di ingegneria gestionale indirizzo in telecomunicazioni il sommario della presentazione è quello che vedete in questo lucido parleremo molto rapidamente ovviamente di quello che è un pochino il mondo dell'ECT e la nuova figura dell'ingegnere che si affaccia su questo specifico mondo poi vi descriverò quella che è la laurea e la laurea magistrale in ingegneria gestionale con particolare riferimento a quello che è l'indirizzo di ingegneria gestionale delle telecomunicazioni e con riferimento a questo indirizzo vedremo qual è l'organizzazione e quali sono i corsi e i programmi degli stessi allora il mondo dell'ECT le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dette in inglese l'information and communication technology principalmente riguardano i metodi e le tecniche utilizzate per la trasmissione la ricezione e l'elaborazione dell'informazione comprendono ovviamente come sotto campo applicativo le reti di telecomunicazioni le reti di telecomunicazioni che allo stato attuale sono importantissime perché noi viviamo in una società, società della conoscenza dove persone e o cose sono interconnesse da reti di telecomunicazioni di diverso tipo e ci accorgiamo anche una cosa nel corso degli anni le reti di telecomunicazioni sono evolute sono diventati sistemi sempre più pervasivi, intelligenti che si adattano poi a specifici contesti e ambiti applicativi e in particolare stiamo assistendo allo sviluppo di reti di telecomunicazioni sempre più sofisticate e consapevoli soprattutto del contesto questa è una parte importantissima e soprattutto cosa non da poco sempre più difficile da gestire da parte degli operatori di telecomunicazioni stesse la complessità delle reti aumenta e diventa sempre più complicato gestire queste reti al punto tale che l'OPEX, cioè i costi per la gestione e manutenzione anche della rete di telecomunicazioni è diventato ormai uno dei fattori di costo più rilevanti e che gli operatori ovviamente stanno cercando in tutti i modi di trovare soluzioni per ridurli il più possibile e poi abbiamo come ben sapete applicazioni sempre più user friendly, il cloud, l'edge computing che sono diventati dei paradigmi ormai che consentono a chiunque di accedere a qualunque tipo di informazione ovunque lui sia e ovunque l'informazione sia quindi sono sempre sistemi più pervasivi e ultimo punto, anche questo è molto importante, abbiamo una diffusione sempre più massiccia di dispositivi digitali da non confondere soltanto con smartphone perché lo smartphone è soltanto uno dei dispositivi, dei numerosissimi dispositivi digitali che uno ha a disposizione e in realtà nuovi dispositivi che stanno portando alla nascita della cosiddetta internet delle persone e o delle cose, in generale si sta passando dal paradigma dell'internet delle cose che ben conoscete a IoT come sigla è ben nota ormai alla internet del qualunque cosa, dell'internet of everything che è diciamo l'evoluzione qual è la nuova figura dell'ingegnere nel mondo, in questo mondo dell'HCT? beh, sappiamo intanto che un ingegnere che si voglia muovere in questo mondo sicuramente deve avere perlomeno competenze tecniche nell'ambito dell'ICT ma basta soltanto questo? questa è la domanda no, in realtà in un mondo come quello attuale è importante che questo ingegnere sia in grado di integrare queste sue conoscenze possibilmente utilizzando creatività spirito imprenditoriale e managerialità all'interno ovviamente di contesti operativi in cui l'ingegnere può venirsi a trovare che possono essere anche molto diversi l'uno dall'altro in tale ambito i cosiddetti manager delle telecomunicazioni potranno essere i protagonisti dell'innovazione vedremo come allora questa qui è un diciamo sempre sulla nuova figura dell'ingegnere del mondo dell'HCT ho preso alcune osservazioni che erano state fatte nell'osservatorio Assinter di febbraio 2018 che sono a mio avviso estremamente interessanti la situazione del nostro paese in materia di competenze digitali intanto le aziende italiane stanno procedendo verso l'incorporazione di tecnologie digitali all'interno delle loro esigenze operative supportate ovviamente da infrastrutture di telecomunicazione e ricordiamo sempre che le telecomunicazioni sono un campo trasversale sotto questo punto di vista che trovano applicazioni in moltiplici contesti operativi le aziende quindi si stanno digitalizzando e quindi è necessario per le aziende poter accedere a persone che siano in possesso delle nuove professioni denominate professioni digitali fondamentalmente e tale domanda è forte ovviamente sia nel lato tecnico dove abbiamo chiaramente i professionisti dell'HCT che io lì ho raggruppato diciamo sotto due lauree fondamentalmente sono i professionisti estremamente specializzati cioè sono gli ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni ammesso che l'ingegneria delle telecomunicazioni ancora esista come laurea comunque sono quelli principalmente le figure più specialistiche le figure più tecniche ma basta solo questo? no, non basta solo questo servono adesso anche professioni all'interno dell'azienda che non sono specificatamente ICT ma che conoscono di ICT ma devono essere in grado anche di operare in ambito legale delle risorse umane dell'amministrazione e della gestione dei sistemi ICT quindi competenze più vaste di quelle che vengono fondamentalmente fornite nell'ambito dei settori più tecnici e allora a questo punto cosa veniva detto in questo forum che era estremamente interessante intanto c'è urgenza per capire e meglio allineare l'offerta formativa non solo skill di natura tecnologica ma a questi skill devono essere affiancati anche i cosiddetti soft skill che consistono in competenze di processo e di gestione che è la cosa più importante quindi quando si parla allora di competenze digitali occorre sempre evidenziare dove si vanno a focalizzare i soft skill in particolare il professionista gli può essere richiesto di conoscere ovviamente le tematiche dell'ICT focalizzando in modo ancora più specifico gli può essere richiesto ad esempio di essere in grado di utilizzare un determinato linguaggio di programmazione sapere di architetture, di telecomunicazioni ma allo stesso tempo deve conoscere il contesto l'ambito dell'applicazione e le regole che lo normano è quindi importante nell'ambito del settore ICT introdurre una cosa che è mancata anche a me quando io ho fatto i corsi di ingegneria elettronica non abbiamo mai avuto questa cultura la cultura del processo organizzativo e della gestione che ho detto anche management e in particolare queste competenze dove sono particolarmente presenti? Sono nel DNA dell'ingegnere gestionale l'ingegnere gestionale ha come uno dei tanti ambiti di studio proprio acquisire le competenze del processo organizzativo della gestione che possono essere utilizzati convenientemente anche nel settore ICT purché affiancati da competenze specifiche per l'ingegnere gestionale nel settore ICT Allora a questo punto sorge una domanda ma sul mercato veramente richiedono questo tipo di competenze cioè il fatto che dobbiamo avere sì persone che sanno di ICT ma che siano anche competenti per esempio nella cultura del processo organizzativo e della gestione ma guardate io sono andato un pochino su internet mi sono andato a vedere qualche esempio tra le offerte di lavoro che sono presenti in internet soprattutto relativamente ad aziende di telecomunicazioni quindi mi sono focalizzato principalmente su aziende ICT e addirittura vedremo che la seconda è ancora peggio perché non è proprio un'azienda ICT è proprio un'azienda manifatturiera delle telecomunicazioni quindi si occupano proprio di costruire il pezzo allora uno dice ma oddio lì forse serviranno solo tecnici no, ci accorgeremo che in realtà hanno anche altre esigenze ne ho prese solo due ovviamente non è che sono andato a cercarmene troppe anche perché se andate in giro su internet troppe ne trovate queste due offerte allora cominciamo subito se andate a vedermi un attimino quali sono alcune figure che vengono ricercate dall'operatore radio mobile Iliad che sicuramente conoscete perché avete visto la pubblicità dappertutto insomma è partita adesso cominciano a fare pubblicità a 6 euro tutto compreso e così via allora ovviamente uno va a vedere un attimino le figure che richiedono beh la prima cosa che uno dice beh sicuramente mi chiederanno un radio network engineering junior e senior vabbè questo lo sapevamo in fondo queste sono le figure strettamente tecniche guardiamo un attimo un po' le altre figure che vanno a chiedere il field operation manager il distribution performance analyst interessante anche il regulation and competition affairs expert cioè l'esperto per esempio di regolamentazione e gestione degli affari l'esperienza nella regolamentazione delle telecomunicazioni fisse e mobile buona conoscenza del funzionamento dei servizi dell'ECE e soprattutto capacità di negoziare con altri operatori guardate le ultime frasi che ho indicato su questioni economiche, tecniche e amministrative devono essere sì dei competenti a punto di vista tecnico e devono anche saper parlare di economia e di amministrazione del problema e poi abbiamo il customer care quality manager passiamo adesso ad un'altra realtà che poi ho avuto anche modo di conoscere diciamo personalmente e diciamo mi hanno colpito parecchio la JMA wireless è un'azienda di Bologna che produce principalmente apparati hardware software per radiocomunicazioni di tipo distributed antenna system hanno un mercato insomma in via di espansione e la sede è di Bologna anche se è l'azienda americana la domanda questa qui è un'azienda che produce principalmente apparati sia hardware che software a questo punto siccome l'azienda è in espansione in Italia e cerca anche di vendere i suoi prodotti sempre in modo più massiccio a questo punto uno può chiedersi ma questi stanno cercando soltanto tecnici e ingegneri specializzati nelle telecomunicazioni ed elettronica beh sì una buona parte ve lo devo dire effettivamente stanno cercando queste figure però poi uno va a vedere un attimino quali sono le richieste che fanno e si accorge che improvvisamente questa competenza estremamente tecnica non è sufficiente per un'azienda che vuole aggredire un mercato molto competitivo ma ha bisogno di altre figure ne ho selezionate soltanto due abbiamo l'ingegnere della qualità orientato allo sviluppo dei nuovi prodotti e poi abbiamo l'ingegnere della qualità orientata alla manifattura del prodotto stesso i compiti che vedete sono là a questo punto partendo da questi due esempi e andando a vedere anche altre offerte che sono presenti in un mercato ci accorgiamo che in realtà l'ingegnere gestionale delle telecomunicazioni quindi un ingegnere gestionale con competenze nell'ambito ICT ben si adatta a ricoprire questi ruoli sia nell'ambito di aziende ICT vere e proprie come le due che ho considerato quelle sono due aziende che hanno nel loro business c'hanno l'information and communication technology e ovviamente anche in altri e numerosissimi ambiti che adesso non vi sto a descrivere ma tanto li vedremo tra un attimo allora vediamo un attimino chi è l'ingegnere gestionale prima di tutto e poi parleremo dell'ingegnere gestionale con indirizzo di telecomunicazioni allora l'ingegnere gestionale allora gli obiettivi della laurea adesso forse vi ripeto cose che già sapete ma almeno ve le rinfresco un pochino la grande linea chi è l'ingegnere gestionale ma in generale è una figura professionale che nell'ambito della sua formazione cerca ovviamente di rispondere al continuo cambiamento del contesto in cui le imprese vanno a competere è sempre più spesso chiamata ad affiancare ai tradizionali ruoli tecnici conoscenze ed attitudini di natura più ampia che includono comprensione dei scenari di consumo sviluppo di soluzioni innovative dinamiche organizzative e la progettazione di nuovi modelli competitivi fondamentalmente l'ingegnere gestionale deve comprendere ovviamente essendo un ingegnere i principi scientifici ingegneristici e la loro declinazione verso le diverse tecnologie adottate da un'impresa competenze anche nell'ambito ovviamente delle telecomunicazioni se abbiamo un ingegnere gestionale che poi applicherà i concetti che ha studiato nel corso degli anni al settore dell'ICT quindi al settore delle telecomunicazioni conosce il contesto funzioni, processi, aree decisionali progettare soluzioni applicando l'approccio scientifico ingegneristico e interagire in modo professionale efficace, responsabile e costruttivo con i colleghi in ambito lavorativo io non lo so questo qui ci sarà un corso che fa una cosa di questo tipo lo chiedo al professor Giordani anche l'interazione sicuramente esatto sono competenze queste qui ancora più trasversali le ultime l'interagire in modo professionale efficace e responsabile con i colleghi quindi dov'è che opera solitamente l'ingegnere gestionale lo vediamo qua società di consulenza imprese industriali e manifatturiere anche quelle specifiche del settore delle telecomunicazioni e ce ne stanno parecchi che operano nel settore delle telecomunicazioni e ve lo garantisco imprese di servizi ad esempio i servizi di telecomunicazioni banche, assicurazioni autority, pubblica amministrazione e così via e quindi opera in un ventaglio estremamente ampio di attività e le attività le vedete indicate là sotto e non ve le sto a elencare quello che vedete qua è l'organizzazione del corso di laurea e di laurea magistrale di ingegneria gestionale specializzata ovviamente al caso dell'indirizzo telecomunicazioni ho indicato con dei riquadri rossi quelli che sono gli esami i corsi che vanno seguiti per specificatamente dell'indirizzo di telecomunicazioni adesso ve li descriverò un pochino più in dettaglio ma come vedete abbiamo nella laurea veterinale ci sono tre corsi che sono segnali e processi per le telecomunicazioni sistemi di telecomunicazioni e reti di telecomunicazione e internet nella laurea magistrale abbiamo tre sempre nell'ambito dell'indirizzo delle telecomunicazioni tre corsi economia dell'ICT gestione dei sistemi di telecomunicazione e reti mobili multimediali questi sono in totale i sei corsi che sono stati pensati per offrire competenze nell'ambito dell'ICT agli ingegneri gestionali e come vedete si inseriscono completamente all'interno di quello che è un corso di ingegneria gestionale senza andare ad alterare quella che è la natura stessa del corso di ingegneria ok domande se ci avete domande interrompete ok allora quali sono adesso con riferimento agli obiettivi dell'indirizzo di telecomunicazioni quali sono gli obiettivi di questo indirizzo allora come prima cosa integrare le competenze economico-gestionale con quelle tecnico-scientifiche del settore ICT avvicinare dobbiamo dire avvicinare solo gli studenti del corso di live ingegneria gestionale al settore trasversale dell'ICT e consentire poi quindi un rapido inserimento degli ingegneri gestionali all'interno di aziende che operano in contesti ICT o che utilizzano piattaforme ICT abbiamo tutti e due gli aspetti o aziende che sono operanti principalmente nei contesti ICT ne abbiamo viste due prima JMA e Kiliad oppure abbiamo detto prima che le aziende stanno introducendo si stanno informatizzando si stanno stanno evolvendo verso il mondo la società digitale e quindi saranno aziende che molto probabilmente utilizzeranno piattaforme ICT quindi abbiamo la doppia possibilità di impiego quali sono le competenze che cerchiamo di fornire in questo indirizzo competenze sulle tecnologie ICT con particolare riferimento ai sistemi le reti telecomunicazioni internet tra un po' vedremo i programmi e quindi discuteremo un pochino un po' più in dettaglio la gestione delle piattaforme dei servizi per le telecomunicazioni sistemi informativi le commerce i health i bank i government cloud big data eccetera parleremo un pochino dei mercati digitali abbiamo anche un corso che appunto si chiama economia dell'ICT che fondamentalmente focalizza su questo e poi si parleranno delle professioni anche degli e-skill quali sono quelli che vengono richiesti in questo corso allora vediamo com'è la struttura dell'indirizzo di ingegneria gestionale delle telecomunicazioni un pochino un pochino l'avevamo già vista prima quando abbiamo visto l'elenco dei corsi fondamentalmente tre corsi di base obbligatori che sono posizionati al terzo anno della laurea triennale che sono segnali e processi per le telecomunicazioni tra parentesi informazioni di servizio per chi è del secondo anno fondamentalmente le persone che seguono segnali e processi per telecomunicazioni in realtà se non hanno questo corso dentro seguiranno il corso di probabilità e processi che sta all'interno del corso di segnali e processi l'ho dovuto dire poi non lo so se ci sarà qualcuno che qui c'è del secondo anno che gli interessa sta cosa sistemi di telecomunicazioni reti di telecomunicazioni e internet e poi un corso a scelta che è gestione dello spettro radio che è sempre al secondo semestre del terzo anno abbiamo invece nell'ambito della laurea magistrale in ingegneria gestionale tre corsi di perfezionamento obbligatori che sono posizionati sia al primo che al secondo anno in particolare al primo anno nel secondo semestre settore della gestione dei sistemi di telecomunicazioni economia delle ICT redi mobili multimediali che sono focalizzati al primo semestre del secondo anno e poi ancora una volta a scelta il corso di redi di telecomunicazioni di nuova generazione questi sono più corsi di perfezionamento rispetto a quelli precedenti quali sono i programmi non ve li sto a descrivere più diciamo in certo dettaglio i programmi li vedete qua questi sono i programmi riassunti diciamo per grandi linee si parte ovviamente dal corso di segnali dei processi per le telecomunicazioni in cui si affronta quella che è la teoria dei segnali le problematiche di analisi dei segnali ma cosa ancora più importante si vengono introdotti tutti i modelli necessari per la caratterizzazione del processo di trasmissione modelli che solitamente hanno le loro radici nell'ambito della teoria della probabilità o meglio ancora della teoria dei processi stocastici poi nel corso invece dei sistemi di telecomunicazioni si guardano quelli che sono i concetti generali sull'architettura dei sistemi di telecomunicazioni fondamenti di trasmissione dei segnali quindi il concetto della trasmissione dei segnali e con particolare riferimento a quella che in italiano si chiama trasmissione numerica in inglese digital transmission questo digitale che sta dappertutto usiamo le parole in italiano si chiama trasmissione numerica a me piace così e metto così parleremo di quello che è il canale di trasmissione poi gli elementi di base dell'architettura e dell'organizzazione delle reti di telecomunicazione argomento sulle reti di telecomunicazioni che inizia in sistemi di telecomunicazioni e si completa nel corso di reti di telecomunicazioni e internet che è un corso a nove gradi quindi è abbastanza grande dove si parte da quella che è la rete ethernet che voi tutti utilizzate fondamentalmente cerchiamo di capire un po' come funziona parleremo poi della rete internet e cosa ancora più importante della suite dei protocolli di cpip applicati ovviamente su ethernet parleremo poi di quelle applicazioni di rete importanti che voi avrete sicuramente sentito nominare il dns il dhcp i firewall stanno un po' dappertutto questo si affronta sempre nel corso di rete di telecomunicazione e internet e poi parleremo delle rete overlay i rete peer-to-peer e il protocollo http dice che ce faccio col protocollo http ce se fanno tante tante cose che è sicuramente un argomento interessante parleremo poi dei web services se i paradigmi sono il rest poi parleremo dei criteri progetti di dimensionamento della rete il cloud e così via e faremo poi un salto un pochino in quello che è il futuro delle rete di telecomunicazioni che è importantissimo per un ingegnere gestionale conoscere le rete di telecomunicazioni non è necessario arrivare a conoscere nei minimi dettagli su come funzionano i protocolli e qual è il bit 4 del pacchetto del protocollo IP quello conta poco quello che deve comprendere l'ingegnere gestionale è sapere come funzionano le cose come si mettono insieme i sistemi per arrivare a costruire un'infrastruttura di telecomunicazioni è chiaro come funziona il protocollo quello lo lasciamo fare agli ingegneri di telecomunicazioni fondamentalmente se ancora esiste sempre se ancora esiste ovviamente la cosa importante facciamo un salto nel futuro parliamo un attimino della software defined networking la network function virtualization che governeranno le redi delle comunicazioni nei prossimi anni se già veramente hanno già cominciato a farlo poi come ultimo argomento verranno discusse quelle che sono le architetture delle redi di aeromobile e so dai miei tesisti che in realtà questo è un argomento molto gettonato quando si va a fare anche un colloquio di lavoro io ho un tesista che si sta per laureare in ingegneria gestionale che ha fatto un colloquio di lavoro anzi un colloquio di stage presso un'azienda di telecomunicazioni e lo hanno preso la prima domanda che gli hanno fatto lei quanto sa di redi delle comunicazioni mobili? ha detto beh ho seguito il corso ah bene bene ci dica LTE come funziona? gli hanno chiesto esattamente ma non è che sono entrati in dettaglio ci dica come funziona esattamente il mobility management entity ci racconti un attimino come è fatta l'architettura e come queste entità interagiscono affinché il processo di comunicazione venga portato a compimento questo è quello che gli hanno chiesto poi c'è il corso di gestione dello spettro radio che è un corso a scelta questo è un corso estremamente interessante perché riguarda soprattutto le problematiche di aspetti tecnologici regolamentari ed economici alla base del mercato dello spettro di comunicazione utilizzato per le comunicazioni radiomobili alcuni argomenti li vedete qua riguardano richiami di elettromagnetismo radiofrequenza la standardizzazione della regolamentazione dell'uso dello spettro e l'economia nel mercato dello spettro radio nell'ambito magistrale questa è l'ultima slide i corsi che vedete qua sono quelli indicati nella slide gestione dei sistemi di telecomunicazioni si guardano quelle che sono le problematiche generali di gestione di una rete di telecomunicazioni a tutti i livelli si è essa una rete di telecomunicazioni di piccole medie o grandi dimensioni ovviamente potete immaginare che passando da reti di telecomunicazioni di piccole dimensioni alle reti di grandi dimensioni che sono anche capaci di rispettare 20-30 milioni di utenti come la rete per esempio di team in Italia potete pensare che i problemi di gestione siano completamente diversi e vanno affrontati secondo logiche e impostazioni completamente diverse logiche e impostazioni completamente diverse soprattutto per reti di grandi dimensioni che hanno portato ovviamente a definire quelle che sono le funzioni del management e quindi tutta una classificazione delle funzioni di gestione addirittura normata a livello di standardizzazione internazionale e lì vedrete parlare del TMN dell'FCAPS e così via poi c'è il corso di economia dell'ECT che riguarda elementi grafi e reti introduzione ai reti sociali infrastrutturali e l'economia delle reti internet e l'economia reti mobili multimediali ecco questo è un corso dove si occupa principalmente ci si occupa principalmente dei sistemi radiomobili con particolare riferimento ai sistemi radiomobili della generazione precedente cosiddetti 3G poi si parla un pochino dei cosiddetti 4G nelle tre versioni Advanced 4G 4G Advanced e 4G Advanced e LT Advanced Pro e poi si discuterà anche un pochino di quelli che sono i nuovi sistemi 5G che stanno venendo fuori esiste poi un altro corso sempre a scelta però nell'ambito della laurea magistrale che riguarda i reti di telecomozione nuova generazione con particolare riferimento a quello che è lo sviluppo delle reti a larga banda basate sia su rete di accesso fissa in rame quello che voi vedete adesso per strada abbiamo tutti questi cabinet messi per strada che li hanno messo sopra un cappello rosso che ci sarà dentro questo cappello rosso punto interrogativo qualcosa hanno fatto qualche impiccio hanno combinato e come avete visto i vostri modem cominciano da più veloci la rete si è modernizzata è diventata una rete a larga banda pur essendo ancora in rame andiamo oltre le reti in rame e nelle reti di nuova generazione entrano anche le reti ovviamente in fibra ottica che almeno nelle più grandi città italiane le stanno già cominciando a dispiegare e vedremo poi nel futuro come evolvono questo tipo di reti di accesso e questo è quello che vi viene descritto diciamo fondamentalmente nel corso delle reti di comunicazione di nuova generazione oltre ovviamente ad aspetti di mercato delle nuove reti di segregazione dell'accesso la dostrina dell'infrastruttura essenziale e potere di mercato e così via cioè sempre orientato ovviamente nell'ottica dell'ingegnere gestionale che deve manipolare operare e conoscere di queste tecnologie ma deve anche saperle gestire e allora questo qui è il personale che è coinvolto diciamo all'interno di questo di questo corso se avete domande io ho concluso la presentazione grazie grazie a professore Mazzenga se non ci sono domande passerei rapidamente al prossimo relatore che è il dottor Antonio Ferullo di NTT a cui abbiamo chiesto di farci un po' un panorama tecnologico e di quello che vedete voi sul campo dal punto di vista delle tecnologie così facciamo un ponte tra l'università e le imprese direttamente prego grazie mille si è giusto un secondo che faccio il cambio del proiettore sono affezionato al mio pc grazie mille innanzitutto volevo cogliere l'occasione per ringraziare l'università tutta per questa occasione che ci è stata data non è la prima volta che non sono poi così anziano ma nemmeno così giovane quindi è passato un po' di tempo dall'altra parte della barriera ciò nonostante diciamo mi emoziona ancora e mi inorgoglisce parlare a delle persone che spero che un domani prenderanno il mio posto preferibilmente preferibilmente in NTT Data chiaramente quello di cui vorrei parlarvi oggi è il nostro punto di vista quello di NTT Data nei confronti del futuro vi presento brevemente chi è il gruppo NTT Data NTT Data è un gruppo multinazionale che è posizionato tra le prime società del Global Fortune 500 nel nostro gruppo fanno parte NTT Data azienda la quale oggi rappresento per la country Italia che è la componente di solution e application ed vanta circa 100.000 impiegati in tutto il mondo questo è l'assetto a questo momento abbiamo in corso un'acquisizione di un'altra azienda molto grande quindi cambierà molto rapidamente e ci consenterà un'espansione ancora più pervasiva in quello che è il territorio globale che copriamo ad esiste copriamo un'altra parte importante di quelli che sono i servizi di business perché abbiamo tre nostre società che sono un vero e proprio telco carrier al pari di quelli che voi conoscete sicuramente molto meglio in Italia quali possono essere Telecom, Vodafone H3G e quant'altro allo stesso tempo anche noi offriamo servizi di telecomunicazioni soprattutto in Giappone NTT la sigla sa per Nippon Telegraph e Telecom quindi la vecchia poste telecomunicazioni per capirci all'italiana dove chiaramente eroghiamo servizi di telecomunicazioni in Giappone e in paesi di Mitrofi queste business vantano 66.200 dipendenti altri servizi che sono servizi relativi alle componenti di ICT Management e Data Center e Network sono erogati da tre aziende del gruppo che sono Dimension Data che si occupa squisitamente della parte di Data Center quindi abbiamo dei nostri Data Center e offriamo servizi di Data Center al pari di quelli più conosciuti come possono essere Azure o Amazon Web Services abbiamo l'azienda NTT Security che si occupa di tutta la componente di sicurezza fisica e logica e cyber security per quanto riguarda le componenti infrastrutturali e poi l'azienda NTT Communication che si occupa delle comunicazioni a lungo raggio quindi di Data Replication tra un Data Center e l'altro le grosse dorsali dopo di che abbiamo il nostro fiore a rocchiello ovvero la nostra componente di Innovation fatta di due aziende Entity R&D ed Entity iCube che vantano 6.000 impiegati nel mondo quello di cui parleremo oggi quindi qual è il nostro punto di vista sul futuro deriva dallo studio di questi 6.000 professionisti distribuiti nel mondo chi è NTT Data NTT Data è uno dei principali player a livello mondiale per quanto riguarda la consulenza e i servizi IT ed è parte del gruppo NTT ha una sede a Tokyo e come ci siamo detti in precedenza circa 100.000 dipendenti in oltre 50 paesi del mondo come potete la coverage map che fra poco sarà ampliata ancora maggiormente da quella che è un'acquisizione in corso in Italia vantiamo circa 2.600 dipendenti ed offriamo servizi di consulenza quindi advisory services e soluzioni ICT diversificati che includono anche sistema integration e outsourcing i settori in cui opera NTT Data a livello mondiale sono tutti i player di mercato che potete conoscere quindi possono essere automotive servizi bancari finanziari energie elettriche e quant'altro qualsiasi tipo di settore di mercato noi lo copriamo e queste 6.000 persone che si occupano dell'R&D lavorano per un investimento della company di circa 2 billion di dollari l'anno quindi crediamo nell'innovazione lo facciamo ed investiamo una cifra significativa per poter giungere a conclusioni importanti su quanto riguarda che cos'è per noi il futuro nell'ambito dell'ICT abbiamo tre poli di innovation al mondo tra cui uno nella Silicon Valley uno a Tokyo e il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia è Cosenza Cosenza è il centro di eccellenza di R&D a livello EMEA quali sono i valori di entity data il primo valore per un dipendente entity data è client first che cosa vuol dire client first che per noi il cliente è al centro di tutto prima di tutto vengono le esigenze dei nostri clienti e lavoriamo continuamente per conoscere le attività dei nostri clienti e i desideri dei nostri clienti sia espressi che inespressi e questo è qualche cosa che ti aiuta a capire quello che è il prossimo futuro poi i clienti normalmente sono molto abituati all'execution quindi a risolvere il mal di pancia nel momento e ad avere dentro di loro dei benefici inespressi che però vengono chiaramente non espressi esplicitamente perché chiaramente sono prevalicati da quello che è il mal di pancia del momento teamwork per noi per un dipendente entity data è fondamentale che tutti i dipendenti acquisiscano il meglio da un lavoro di squadra da noi il one show non esiste abbiamo un approccio collaborativo sappiamo che il risultato che va ottenuto sui clienti lo si può ottenere solamente con una squadra estremamente coesa e il tema che è uno dei nostri tre pillar i nostri valori fondamentali che affronteremo oggi è il foresight noi di entity data non ci adagiamo allo status quo ma puntiamo al foresight la lungiminanza la capacità di vedere oltre di vedere lontano rispetto all'execution che facciamo nel day by day sui nostri clienti quindi una delle persone che deve venire in entity data deve aderire a questi tre pillar fondamentali o quantomeno deve sentirsi a proprio agio nel collocarli nel proprio modo di essere e di lavorare quali sono le prospettive del foresight in entity data e gli obiettivi sicuramente quelli di andare a recepire quelli che sono i cambiamenti ambientali abilitati da quelli che sono i fattori politici economici della società e quelli che vengono abilitati dall'innovazione tecnologica questi quattro fattori hanno la capacità di impattare fortemente la società e tutto il business che adesso è collegato qual è la nostra metodologia per derivare i trend del futuro che vi andiamo a presentare il source per noi sono sicuramente il web perché andiamo a monitorare tutti gli influencer sul web e quali sono i trend tecnologici futuri quindi noi non ci limitiamo solamente a pensare ad un'innovazione che è frutto del nostro R&D ma abbiamo degli osservatori quindi delle persone che lavorano per osservare gli influencer e recepire quelle che sono le innovazioni dei trend futuri facciamo delle conferenze internazionali delle pubblicazioni e chiaramente un team di esperti che vanno ad analizzare questi source basandosi su un classico di gamma pest che è quello che analizza i fattori fenomeni politici quelli economici quelli della società emergente e quelli tecnologici in numeri noi ogni anno facciamo 60 challenges quindi 60 sfide tecnologiche all'interno del nostro gruppo e quindi andiamo a recepire i risultati di queste 60 sfide ed andiamo a a selezionarli e a proporre quelli che sono i reali trend futuri e quelli che probabilmente non sono del momento o al momento non sono elegibili come key value per il futuro 98 innovazioni tecnologiche tra cui alcune nostre frutto del nostro R&D ed altre che vengono da altri player dopodiché tutti questi trend hanno una global CTO view e knowledge ovvero tutti i trend vengono alimentati e valutati dai CTO che abbiamo distribuiti nel globo terrestre di tutte le nostre aziende questi sono i trend tecnologici del 2008 ne sono otto come potete ben vedere noi oggi non li vedremo tutte otto perché non abbiamo il tempo di andarle ad esplorare tutte otto e sicuramente non li vediamo tutte otto in profondità vi anticipo che nel prosieguo del documento noi non vedremo cose che a voi sembrano molto in voga molto attuali e cose del futuro cioè nel report non troverete l'IoT ok per noi l'IoT in questo momento è una cosa che già esiste è una cosa che viene fatta molto è un fenomeno emergente ma come vedremo nel proseguo del documento è un enabler di quello che per noi è il reale futuro noi crediamo molto che il futuro sia molto legato all'intelligenza artificiale quindi vedremo oggi pervasive artificial intelligence hacking life harmonious automation diversity infrastructure e data sustainability il primo è la pervasive artificial intelligence il termine intelligenza artificiale oggigiorno diciamo è un tema molto ricorrente è un tema che avrete sentito chiaramente è un tema che ha anche i suoi side effects qual è l'avanzamento dell'intelligenza artificiale dal 1980 al 2020 chiaramente siamo partiti da un'intelligenza artificiale di prima generazione basati su modelli rule based fino a passare per un'intelligenza artificiale di seconda generazione basata su modelli statistici piuttosto che a interpreti di intelligenza artificiale come il classico Xiri che conoscete sugli iPhone fino ad arrivare alla terza generazione tipo AlphaGo Google Translation Google Photo e Self Driving Car è un'intelligenza artificiale brain based uno dei primi esempi di quella che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale è un case di DeepMind Alpha Zero precedentemente basandoci sugli algoritmi classici come ben sapete era necessario alimentare i motori predittivi i motori di intelligenza artificiale con un set di dati di training ad oggi quello che è successo è che AlphaGo che è un'intelligenza artificiale di Alpha Zero ha recentemente sconfitto il campione sudcoreano master del gioco famosissimo Go come lo ha fatto? Lo ha fatto passando da l'intelligenza artificiale tradizionale quindi che era basata sull'MTS sull'algoritmo Monte Carlo ad un'intelligenza artificiale basata sulle CNN che sono le reti neurali convolutive una prima versione di questo algoritmo era addestrato con una funzione di valutazione dedotta automaticamente dalle CNN e addestrate in una prima fase comunque a partire da un addestramento di sistema supervisionato successivamente nell'attuale versione basata su un modello di apprendimento per rinforzo di tipo attore critico è stato addestrato solamente con le regole base del gioco e con il compito di giocare contro differenti versioni di se stesso per molto tempo il risultato è stato un giocatore di Go artificiale ancora imbattuto e senza nessuna necessità di addestramento questo è il vero cambiamento mentre prima un'intelligenza artificiale andava addestrata oggigiorno c'è un'intelligenza artificiale che si auto addestra auto apprende da simulazioni di incontri con se stesso ed è in grado di sconfiggere l'essere umano più forte su schemi così complessi cosa impensabile fino a qualche anno fa la tecnica torno un attimo prima perché non l'ho detta nella foga è il Deep Reinforcement Learning quindi Deep Learning più Autonomous Learning che cosa ci permette di fare il Deep Reinforcement Learning ci permette di modificare ed andare a migliorare dei sistemi già esistenti come ad esempio questo è un esempio quindi di un prototipo di Entity Data alla sinistra vedete un prototipo tradizionale basato su tecnologia di controllo passiva ovviamente in questo prototipo l'IoT è un enabler quindi non è che l'IoT non esiste perché altrimenti determinate cose non possiamo farle senza IoT perché questo è un prototipo che funziona con n sensori IoT che sono distribuiti in questo scheletro di un building voi sapete che in Giappone i terremoti sono un problema estremamente sentito mi sentirei di dire che piuttosto che ultimamente il problema è diventato sentito anche in Italia ok quindi l'esercizio che volevo farvi vedere è la differenza tra un controllo attivo e un controllo passivo quindi potete osservare l'edificio di sinistra rispetto all'edificio di destra come si muove rispetto alla medesima sollecitazione e questo vi fa rendere conto di quanto è migliorato l'algoritmo quindi chiaramente attraverso l'intelligenza artificiale abbiamo la capacità di migliorare tantissimo quelli che sono gli slittamenti sia in orizzontale che in verticale di un edificio ed andare a minimizzare in maniera non indifferente quelli che possono essere i danni provocati da uno smottamento da un sisma devo fare un adjustment solamente perché penso di aver torto l'audio a noce non so se non passa dal canale htma ok altro aspetto importante dell'intelligenza artificiale immersiva è sicuramente il transfer learning attualmente volevo diciamo illustrarvi come può essere applicata l'intelligenza artificiale per fare una diagnosi precoce del cancro dei linfonodi ok attualmente diciamo abbiamo delle tecniche che attraverso un milione e duecentomila immagini di oggetti fisici generali attraverso pixel oggetti interi angoli spigoli e parti in grado di tirare fuori una categorizzazione di quello che è l'oggetto presente nell'immagine quindi da un milione e due un milione e due di immagini quello che tiro fuori ok è la categoria orologi sedie quello che si può fare con l'intelligenza artificiale con solo duecentosettanta immagini di tessuto di un essere umano andare a dare in output una diagnosi con un'estrema precisione qual è la differenza tra un'intelligenza artificiale e un essere umano un fisico diciamo una persona fisica che analizza queste duecentosettanta immagini con un tempo limitato ha all'ottantuno per cento di affidabilità nella diagnosi una persona fisica senza limiti di tempo a zero novecentosessantasei quindi il novantasei punto sei per cento l'intelligenza artificiale a novantanove punto quattro e a una necessità di tempo estremamente inferiore questo per noi è sicuramente uno degli impatti seri e quindi che ci sarà sul futuro quindi l'intelligenza artificiale guiderà molti settori quali sicuramente si spera quello dell'Hellcare altro esempio sempre di entity data è un esempio di di riduzione dei difetti su una linea di realizzazione di motori per autovetture quello che abbiamo ottenuto dal passare da un modello tradizionale di addestramento ad un modello basato sul nuovo tipo di intelligenza artificiale quindi sulle CNN è sicuramente il 47% di riduzione delle non conformità il 25% di riduzione dei factory downtime e il risultato non banale è che il modello update aveva un'udorata di due mesi perché erano necessari sia tempi di riaddestramento del modello sulla vecchia serie storica e sia tempi di esecuzione del nuovo modello con il nostro prototipo siamo passati da due mesi a due minuti dopo l'intelligenza artificiale volevo parlare dell'harmonious automation che cosa è l'harmonious automation non è altro che la robotica quindi avete sentito molto parlare negli ultimi tempi di robotica siamo andati molto avanti sulla robotica perché abbiamo migliorato la produttività umana automatizzando quelle che sono le attività di routine il passo successivo che va fatto è cercare di automatizzare delle attività che non sono di pura routine in una logica collaborativa con l'essere umano gli scopi dell'harmonious automation sono l'espansione dell'automazione lo sviluppare l'automazione attraverso l'intelligenza artificiale e la necessità di collaborare a questo lavoro tra l'interazione tra l'essere umano e quelle che sono le intelligenze artificiali questo è un primo esempio di quello che può essere un'intelligenza artificiale che fa una cosa per voi ovvero il self driving car scusate con i video c'è sempre un piccolo problema ok allora questo è un esempio di dove l'essere umano è comunque seduto alla guida ok ma non sta guidando non ha le mani sul volante quindi l'essere umano assiste l'intelligenza artificiale alla guida del veicolo quindi ha facoltà di dire guidi tu o guidi io non è una fiction come potete ben vedere è stato girato per strada ed è stato fatto diciamo ad un road show a Las Vegas durante lo scorso anno quindi è già realtà andando oltre possiamo esplorare qualcosa di ancora migliore una soluzione una soluzione completa di guida totalmente autonoma queste persone sono salite sull'auto si sono messe comodo e stanno andando a fare un giro in macchina come un taxi dove non c'è un essere umano ma è l'intelligenza artificiale che guida da solo l'auto fra poco parleremo di questo che sembra oro e di dove sono i problemi perché comunque sia ogni nuova tecnologia ogni nuovo trend futuro nasconde dei problemi quindi andrei avanti rapidamente su questo filmato e passerei al tema di data sustainability che cos'è la data sustainability come voi sapete ogni giorno i modelli di business che stanno cambiando stanno facendo avere un'espansione dei dati esponenziale questa estensione dei dati esponenziali che vengono generati da intelligenze artificiali chiaramente causano un incremento non sostenibile per quanto riguarda le infrastrutture hardware che devono manutenere il dato ed oltretutto hanno il side effect che visto che i dati sono generati da intelligenza artificiale c'è una proliferazione di fake quello che voi vi vedete proposto quotidianamente come proposte personalizzate sono generate ad oggi da intelligenze artificiali che sulla base di quelli che sono i dati di profiling che vengono raccolti dai sistemi ai quali sono registrati vi può proporre una proposta reale ed allineata a quelle che sono le vostre necessità ma come ben sapete diciamo l'hacking è dietro l'angolo quindi ci sono delle altre intelligenze artificiali che sono pronte a recepire gli stessi dati che sono pubblici su internet e a farvi delle proposte che sono dei veri fake penso che sentirete parlare tanto di quelli che sono gli attacchi informatici o i problemi del cliccare per poi dover pagare un riscatto nel 2016 eravamo ad un volume di dati di 16,1 zeta byte si prevede nel 2025 che passeremo a 163 quindi il proliferare di dati e di contenuti diventa estremamente problematico per quanto riguarda la generazione e la manutenzione di quelli che possono essere i falsi positivi questo è un report di Seagate quali sono gli esempi di che cosa può fare l'intelligenza artificiale partendo da dati elementari questo è basato su una ricerca di Microsoft è l'ATGain è possibile creare delle immagini reali banalmente da un testo il testo è colore giallo secondo colore nero un cello 13 13 short questa è la progressione con l'alimentazione di informazioni testuali c'è un'intelligenza artificiale ad oggi che è in grado di fare questo questo vi fa capire come possono essere utilizzati dei dati elementari che voi avete postato tranquillamente su internet su social network come possono essere twitter facebook o con tant'altro lo style conversion questo è un altro esempio un quadro di money che diventa una foto una zebra che nella stessa posizione diventa un cavallo lo stesso scenario dal summer che diventa winter e vado avanti questo è un esempio ancora più calzante un video girato di giorno che semplicemente con una sovrapposizione di quello che è lo scenario sotto può sembrare girato di notte sembra una cosa diciamo banale ma c'è enorme differenza vi invito a pensare no? eravamo di giorno in questo posto ok arriva il video ed è girato di notte potrebbe essere una contraffazione non banale questo è ancora peggiore e il cambiamento del volto in tempo reale basato semplicemente su una voce questa cosa vi dimostra come tranquillamente potreste pensare di parlare con una persona dall'altro lato della webcam e invece state parlando con un'altra il problema è che non si sente l'audio non so perché non so se riusciamo a risolvere questo problema sono collegato con l'HDMI ma non mi esce l'audio io che sarà molto importante perché poi si gira si sente molto piano quello è il reale problema sento il ritorno nel mio pc vabbè credeteci in questo momento poi casomai cerchiamo di risolvere il problema tecnico e ve lo faccio rivedere come potete ben vedere si sono invertiti i volti ok posso provare a fare questo trick ci riprovo un secondo rifaccio ripartire il video da zero si si ci provo devi veicolare l'audio sull'HDMI perché lo sta veicolando ancora vabbè se ci prova lei le lascio la macchina quello che volevo dirvi è che chiaramente quello che può succedere è che voi pensate di parlare con una persona ma in realtà vi sta parlando un'altra persona questo è un esempio pratico di fake video no? ed ha una pericolosità non banale no? soprattutto se voi pensate di fare un colloquio su internet no? oggigiorno le aziende statunitensi e piuttosto spesso anche noi facciamo un primo screening di colloqui qualche volta più a skype ok è capitato anche con dei clienti ho messo il timer mi sa che invece sono abbastanza allineato si proviamo almeno vedo se mi è arrivato si non arriva direi di andare avanti credetemi sulla parola poi vi mandano il link comunque c'è il source questo è un video pubblico e su youtube quindi potete tranquillamente andarlo a vedere dopo quindi quali sono i benefit della generazione automatica dei contenuti sicuramente la possibilità di rispondere anche ai need di nicchia no? quindi di tutte le persone il provisionare quindi mettere a disposizione informazioni personalizzate specialmente dei video anche perché il 79% dei consumatori desidera avere degli esempi di video quando deve acquistare un prodotto soprattutto quando gli viene generato un social network system video il 46% della popolazione è più motivata all'acquisto e il 95% delle tecnologie quindi dei technology makers ha visto questi video quindi questi video diciamo che sono autogenerati cambiano sicuramente il modo di decidere dei consumatori rispetto a determinate tipologie di business quali sono i side defect che l'autogenerazione dei contenuti può proliferare dei contenuti fake e quindi è necessario assicurare la qualità e la veridicità dei dati che alimentano questi contenuti questo è un esempio che vi fa capire qual è il problema che ci può essere su delle intelligenze artificiali quale il self driving non so se avete visto che qualcuno qualche volta si inventa di mettere degli adesivi sui segnali stradali vi è mai capitato pubblicità o quant'altro un essere umano è in grado di rendersene conto un'intelligenza artificiale in questo momento un'intelligenza artificiale l'essere umano recepisce lo stop semplicemente perché lì ci sono degli sticker quello pensa che c'è un limite a 45 ed è andato lungo questo è un problema grave per le tecnologie emergenti qual è il forecasting dei fake content nel 2020 alla fine dell'anno le intelligenze artificiali generano dei contenuti fake e le intelligenze artificiali possono rilevare quali sono i contenuti fake noi crediamo che nel 2022 le informazioni non saranno mai più false generate dall'intelligenza artificiale ma le intelligenze artificiali generano solamente informazioni realmente true e questo ci permetterà di andare a utilizzare l'intelligenza artificiale per tutte le cose di cui vi ho parlato in precedente e King Life sembra un po' simpatica come cosa ma è una cosa nella quale in Giappone credono tantissimo hackerare quello che è la prospettiva di vita attraverso la tecnologia questo è un report giapponese che vi mostra qual è l'aspettativa di vita al 2013 degli uomini e delle donne giapponesi non solo l'aspettativa di vita ma l'aspettativa di vita in salute come potete ben vedere c'è un gap di nove anni tra l'aspettativa di salute dell'aspettativa di vita negli uomini e un gap di dodici anni e mezzo per le donne potete vedere che sono estremamente disallineati e quello è la porzione di anni che richiedono un nursing care quindi un'assistenza o domiciliare o d'ospedaliera i costi che attualmente vengono sostenuti da ogni ministero per l'erogazione di assistenza ospedaliera sanitaria o sferadenza e tom sono elevatissimi e quindi bisogna trovare il modo di far stare bene le persone per limitare i costi questo è secondo i nostri amici giapponesi l'estensione di quella che è la vita e di quello che è la vita in salute quindi nel 2065 quello è l'obiettivo che si vuole raggiungere ma come potete ben vedere già il gap si deve molto assottigliare nel 2020 e nel 2030 qual è il modo in cui ci si arriva molte cose di quelle che ci siamo dette prima e quali sono gli abilitatori i wearable che voi conoscete quindi attraverso i wearable il battito cardiaco il monitoraggio continuo il miglioramento di questi le immagini diagnosticate attraverso l'intelligenza artificiale che vi ho mostrato in precedenza le brainwave analisi quindi le analisi delle onde cerebrali le diagnosi genetiche la terapia generica la drug discovery attraverso l'intelligenza artificiale e i nanobot non so chi ha mai visto il film il film dei G.I. Joe io l'ho visto perché sono appassionato di cinema nel film dei G.I. Joe c'era un'anticipazione di quelli che sono i nanobot nel film dei G.I. Joe sono degli insettini che si inseriscono nel nostro corpo e vanno a curare le nostre cellule il nanobot non è fantascienza da film dei G.I. Joe esistono già dei prototipi di nanobot vi invito a andarveli a vedere su internet quindi in un futuro non molto lontano potremmo avere degli insettini che entrano nel nostro corpo e curano le cellule malate senza che ce ne accorgiamo sono delle intelligenze artificiali quindi quello a cui si punta per il futuro è il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita attuali e la diagnosi precoce per garantire e contribuire notevolmente all'aspettativa dell'estensione di una vita sana questi sono gli oggetti attraverso cui garantiamo questa cosa sicuramente i wearable che vi ho anticipato prima la misurazione del sangue quindi a livello degli occhi e il rilevamento degli stati di depressione attraverso le onde sonore semplicemente attraverso l'ascolto di una persona che ci parla quindi ma cosa faremo gestiremo la salute utilizzando moltipli tipi e di dati individuali attraverso heart rate attraverso quello che può essere un wearable o una maglietta che indossiamo stati emozionali attraverso un wearable dati comunicati attraverso i social network services ok andremo ad analizzare anche i messaggi e gli stati d'animo ad oggi voi su facebook avete la possibilità di dire Antonio Ferullo oggi è contento è uno stato d'animo attraverso l'analisi di n stati d'animi andiamo a capire qual è lo stato di salute o di benessere della persona e attraverso anche il tempo e i valori nutrizionali dello stesso individuo penso che sia l'ultimo diversa infrastructure con la continua proliferazione di intelligenze artificiali ci sono diverse soluzioni hardware a supporto di quest'ultimo penso che avrete sentito parlare del fatto che la potenza di calcolo ad oggi è una richiesta continua e sempre più è diventata un problema qual è il problema è il fatto che i data communication speed devono arrivare sono arrivati nel 2018 a 600 megabit per secondo gli ssd lo storage dal 2018 lock 2.5 per una tecnologia core 28 core per gigahertz equivalenti 70 gigahertz quindi è un esponenziale pazzesco qual è il problema siamo partiti con la generazione di core multiple quindi non ce la facciamo con un solo core aggiungiamo più core quando abbiamo avuto necessità dell'intelligenza artificiale abbiamo fatto dei chip dedicati dopodiché non ce la facciamo con i chip dedicati abbiamo fatto processori sfruttando le tre dimensioni quindi mettiamo degli strati di silicio uno sull'altro li separiamo adeguatamente per fare in modo che non ci siano problemi di fusione e andiamo avanti il problema non è risolto poiché abbiamo un'espansione esponenziale delle infrastrutture e delle architetture distribuite penso che tutti quanti avrete sentito parlare di bitcoin e di blockchain ma la blockchain non è solo bitcoin poiché la blockchain serve sicuramente in due ambiti complementari che sono estremamente importanti il public sector per andare a monitorare quelli che sono gli eventi del futuro che dovranno essere fatti via internet quindi le identità e le elezioni eventi corporate come la tracciabilità di eventi di oggetti manifatturieri avete sentito parlare sempre molto più spesso di questioni legate alla tracciabilità alimentare noi siamo quello che mangiamo ad oggi giorni la contraffazione degli alimenti è un problema estremamente grave se ne parla continuamente ma non è stato ancora risolto noi ci abbiamo provato questo è il nostro sistema di food product traceability abilitato dalla blockchain esiste ad oggi uno standard che si chiama GS1 per la tracciabilità del cibo noi l'abbiamo accorpato alla blockchain per rendere immodificabile le registrazioni solamente dagli utenti autorizzati e di record che sono basati solamente sullo standard internazionale GS1 questo è un meccanismo abilitato dalla blockchain che rende sicuro che l'hamburger che voi avete sulla vostra tavola ha tutta la catena di tracciabilità dal produttore al tavolo per fare questa cosa è necessario cambiare il paradigma dei computer che abbiamo a disposizione e quindi andiamo ad introdurre passare dal regular computer basato su due stati 0 ed 1 al quantum computer il quantum computer è un computer basato sulla meccanica quantistica che prevede che non esistano solamente 0 e 1 ma esista la sovrapposizione degli stati poiché il quantum computer non usa il bit ma usa il quantum bit che è una particella che può presentarsi in due valori questo che cosa abilita questo è un problema ad oggi noto ma che non è risolto dai computer attuali c'è un signore che come me o come sarete voi nel futuro ha problemi nel viaggiare è un businessman deve andare in n posti fin quando deve andare in quattro città per scegliere la rotta più semplice ce la fa sono tre combinazioni 5, 6, 7 arrivato a 60 rotte ci sono 10 all'80 possibilità di rotte possibili ad oggi non esiste un computer che riesce a risolvere questo problema domani attraverso il quantum computer avete la possibilità di risolvere il grafo da un computer tradizionale per risolvere un grafo ci mette 3, 2 millisecondi il quantum computer del quale esistono già delle versioni fatti da IBM ci mette 0,7 millisecondi che cosa porterà questa innovazione a risolvere gravi problemi sociali quali la congestione del traffico il problema dell'alimentazione elettrica quindi delle backbone che servono il mondo nonché gravi problemi di salute è tutto grazie grazie dottor Ferullo per questo interessantissimo speech non so se ci sono delle domande rapide qualche curiosità perché ci siamo andati proprio verso il futuro tecnologico allora grazie ancora per questo panorama io chiamerei subito aprirei subito la tavola rotonda chiamando il moderatore il dottor Decina il quale modellerà appunto gli interventi dei quattro esponenti delle aziende vi chiediamo ragazzi solo di rimanere magari altri 10 minuti perché siamo un po' in siamo un po' fuori fuori tempo massimo con la tavola rotonda però la nostra intenzione è dare comunque il massimo dei contributi proprio dagli aziende chiamerei insieme al dottor Decina la dottoressa Chiara Barone di Ernest & Young il dottor Daniele Faccilongo di Accenture prego accomodatevi lì in fondo la dottoressa Raffaella Formilo di NTT Data prego e dottor Alessandro Micali di GMI Servizi prego Maurizio allora salve a tutti quanti ringrazio l'università professor Vatalaro allora se il professor Vatalaro è la persona più importante diciamo in questi ultimi mesi questi ultimi anni diciamo una volta che vi siete laureati loro saranno le persone più importanti loro decideranno la vostra vita futura allora io sono un economista non sono un ingegnere sono laureato circa venticinque anni fa un po' ho visto quasi tutto il mondo delle telecomunicazioni ho fatto mi sono occupato di vendite marketing pianificazione strategica ho fatto il consulente e quindi diciamo ho visto un po' tutto quanto a 360 gradi e avevo sentito degli interessanti interventi prima che dicevano chi è che vince vince colui che ha delle competenze a 360 gradi ok io ho cambiato circa mi sembra 15 volte lavoro in 24 anni diciamo insomma abbastanza sì diciamo e nella mia piccolissima esperienza ho visto che l'azienda premia diciamo le persone che passano da azienda a azienda perché passando da azienda a azienda si diciamo il cervello cresce diciamo perché uno si interlaziona e quindi diciamo il bagaglio culturale cresce quindi viene premiato colui che sa fare più cose quindi diciamo dovete sapere progettare una rete in 5G una rete in banda larga però dovete sapere anche a che cosa serve quali sono i servizi che vanno sopra quindi avere anche delle nozioni di marketing di vendita diciamo anche di medicina perché diciamo a me questo mondo diciamo mi fa anche paura è bellissimo il mondo che avete illustrato ma fra 20-30 anni ci saranno anche dei dei pericoli diciamo quindi anche sapere essere anche sociologi psicologi diciamo e due cose voglio dire diciamo una è questa della diciamo delle capacità a 360 gradi la secondo il secondo skill diciamo vi racconto un aneddoto diciamo era una mia la mia prima intervista di lavoro in McKinsey che è una società diciamo finanziaria molto diciamo pedante possiamo dire di bacchettoni diciamo che se uno non si fa la barba la mattina diciamo non puoi andare a lavorare e io mi sembra passai il primo il primo giro il secondo giro avevamo cinque persone e un colloquio di gruppo ci fecero questa domanda quanto è stato il consumo di pane nel 1994 95 quanto è stato il consumo di pane nel 1995 e tutti ci siamo guardati un po' così poi alla fine io dopo 30 secondi 40 secondi ho detto ma secondo me 60 milioni per 365 per 10 grammi c'era il calcolatore il caso io ho fatto il calcolo diciamo perché ho pensato non può essere una domanda così stupida poi dopo uno mi ha detto sì bravo continuò e ho scoperto che diciamo il colloquio era andato male perché mi aveva praticamente segato scusate il termine lo psicologo perché non avevo collaborato con gli altri però sì tu sei bravo però devi collaborare dovete collaborare no? quindi diciamo oggi l'azienda premia due cose il fatto di avere una intelligenza a 360 gradi e il fatto che bisogna collaborare ok? diciamo anche quando uno ne sa più degli altri e gli altri non ne sa comunque bisogna sempre collaborare questo me lo insegnerete voi lo insegnerete voi a loro ok? allora io passo la parola diciamo a Chiara Barone di Ernest & Young poi io diciamo lì non ho lavorato da McKinsey però una settimana dopo sono stato assunto da Ernest & Young la domanda era sei un piccolissimo imprenditore senza soldi come fai a sponsorizzare la tua azienda? non hai proprio un soldo devi fare pubblicità alla tua piccola start up oggi si chiamano start up all'epoca piccolissime aziende e mi sarebbe venuto in mente di dire ma non lo so mi spoglio nudo e vado a via del corso così mi riprendono tutti i giornali mi arrestano diciamo però almeno 60 milioni di italiani diciamo hanno visto il brand no? creatività un'altra parola che ho sentito qua però non fate così diciamo ovviamente non lo fate pensatelo perché diciamo così il cervello diciamo vi sta in movimento io risposi ma internet che era la parola chiave del momento 25 anni fa era la parola chiave infatti fui assunto Ernest & Young allora passo proprio la parola a Chiara Barone Ernest & Young mi ringrazio per l'applauso sulla fiducia diciamo che sì sicuramente quello che è stato detto è corretto si premia lo spirito di collaborazione mi sentirei di dire che più che premiare il job hopping e quindi il cambiare spesso posizione lavorativa o azienda semplicemente siamo finalmente in un'epoca in cui non è più penalizzato ecco la vedrei più così in un'ottica appunto di competenze trasversali posso parlare per la mia azienda però credo di parlare in realtà per tante altre abbiamo sviluppato dei metodi di selezione che vanno esattamente a valutare la capacità delle persone di collaborare e di lavorare in team quindi in particolare per le posizioni molto junior lavoriamo con gli assessment center quindi ci sono delle persone che sono lì ad assistere i candidati e le candidate nello sviluppo di un'idea o di un progetto sono lì in qualità di osservatori e poi chiaramente abbiamo delle griglie con delle competenze che andiamo a valutare durante quel lasso di tempo ed è probabilmente la prima cosa che ci viene in mente nel momento in cui ci troviamo attorno a un tavolo con degli altri candidati molto giovani con poca o pochissima esperienza il lavoro di team oggi parlando di competenze digitali possiamo aggiungere tanto altro e abbiamo iniziato a fare gli assessment in ambiente virtuale quindi invece di avere il caso l'idea da sviluppare il tema diciamo la challenge su un foglio di carta ce l'abbiamo su un pc c'è una persona che prende il comando mettiamola così della dinamica e si muove nell'ambiente virtuale per poi arrivare all'obiettivo della challenge quindi è un primo passo per iniziare a valutare le competenze digitali chiaramente sappiamo che nel caso di candidati come voi persone giovanissime la generazione dei millennials tante cose possiamo anche darle per scontate probabilmente però non non tralasciamo tutto il resto cioè tutto quello che fino ad oggi è fatto da base alle nostre selezioni ai criteri con cui abbiamo selezionato le persone fino ad oggi grazie Chiara allora passerei la parola a Daniele Faccilongo di Accenture un'altra nota società di consulenza una volta eravate nemici io mi ricordo che Accenture si chiamava Andersen Consulting eravate nemici io mi ricordo 25 anni fa in tutte le convention quando tu entri in queste grandi aziende ti fanno un po' il lavaggio del cervello in senso positivo siamo i migliori siamo i numeri uno e mi ricordo che c'era il grafico del fatturato di Ernest Young e di Accenture che una volta si chiamava Andersen Consulting in cui Accenture era più alta perché ha avuto sempre un fatturato più alto però Ernest Young piano piano negli anni raggiungeva Accenture e quindi adesso lascio la parola a Daniele Sì in realtà prendo spunto da quello che ha detto la collega c'è stata in questi anni un'evoluzione anche nel recruiting la collega ha parlato di assessment digitali li utilizziamo anche noi in Accenture soprattutto per i profili di neolaureati o laureandi però a mio avviso noi oggi abbiamo parlato di tecnologie digital transformation tecnologie leader di mercato tecnologie di frontiera a mio avviso il trend sarà il unire l'innovazione con la tradizione si utilizzano i processi di selezione digitali però a mio avviso l'elemento umano è fondamentale noi nel processo di selezione e questo riprendo anche la tradizione greco-romana nostra italiana riprende prende in considerazione tre elementi che sono fondamentali i colleghi del recruiting lo sapranno a meno dito sembra ovvio ma non è banale noi diamo molta importanza al sapere al saper fare e al saper essere quindi il sapere voi lo arricchite quotidianamente con i vostri studi universitari con le conoscenze con la teoria ma non solo all'università ma anche nella vita privata nelle aziende inizierete a cercare di arricchire e saper fare di acquisire competenze sul campo le competenze tecniche certo le aziende hanno bisogno già di competenze tecniche all'università questo spesso è il dibattito però a mio avviso le università devono garantire una visione d'insieme quindi una visione teorica sicuramente sostanziata da elementi pratici so che ci sono delle evoluzioni soprattutto con le riforme con project work c'è un rapporto e oggi è la testimonianza del rapporto diretto tra l'università e le aziende però cercare di dare metodo la metodologia la struttura insieme anche a delle competenze tecniche che poi saranno utili una volta entrati in azienda poi c'è un altro elemento che è fondamentale è saper essere sono i comportamenti in generale c'è un fil rouge che unisce tutte le società tutte le società poi soprattutto di consulenza però poi il diciamo le skill dipendono molto dal contesto aziendale dipendono dal contesto sicuramente dal ruolo aziendale voi siete ragazzi di ingegneria gestionale o telecomunicazioni quindi avete diciamo anche in prospettiva sicuramente una strada tracciata per determinati ruoli professionali chi vorrà fare il tecnico intraprenderà un percorso per diventare tecnico però voi avete almeno a livello teorico a livello conoscitivo forti competenze nell'ambito gestionale o menageriale nell'ambito dei processi e quindi le skill sono legate al ruolo che andrete a ricoprire nel prossimo futuro ma le skill soprattutto le soft skill le competenze trasversali sono legate alla cultura aziendale ai valori che sottendono la cultura aziendale ogni azienda ha una sua cultura questo poi si riverbera quotidianamente su come si vive in azienda quali sono le priorità come si interagisce con il collega io non vorrei insomma il tempo è tirano non vorrei andare nel dettaglio sicuramente ritornando a quello che diceva la collega la capacità di lavorare in team è fondamentale da soli non si va da nessuna parte si gestiscono nell'ambito della consulenza come nel caso di Accenture nella consulenza strategica direzionale o di system integration consulenza tecnologica si è inseriti in progetti sfidanti in ambito enterprise per le multinazionali molto complessi di conseguenza bisogna lavorare di concerto con i propri colleghi tanto che e questo diciamo è un thread dell'ultimo periodo che secondo me è diventato fondamentale in Accenture immagino anche nelle altre aziende è il concetto della diversità quindi team di lavoro costituiti da uomini e da donne persone provenienti da un background esperienziale differente culturale c'è la diversità l'eterogeneità che ti dà ricchezza e ti permette di gestire progetti complessi qual è l'obiettivo? La soddisfazione del cliente perché noi lavoriamo supportiamo i nostri clienti a livello strategico a livello tattico a livello tecnologico per garantire un vantaggio competitivo alle nostre aziende in modo che loro possano risolvere i problemi stare sul mercato avere i vantaggi competitivi avere un aumento del business delle revenue e della marginalità ok grazie Daniele allora io passerei la parola Raffaella Raffaella Formiglio di NTT Data Formiglio scusa scusa allora innanzitutto ringrazio anch'io insomma per questa possibilità per essere stata invitata dall'università a questa tavola rotonda che dire sulle competenze per noi è un tema molto caldo perché da circa un anno abbiamo rivisto proprio la nostra alcuni nostri processi core come quello appunto della valutazione annuale dei dipendenti il nostro performance management e abbiamo introdotto un sistema di ruoli aziendali proprio basati sulle competenze andando a fare cosa ispirandoci a quello che è il modello ECF ovvero European Competence Framework e in base diciamo a queste competenze a questo framework in collaborazione poi con l'osservatorio delle competenze digitali Agid abbiamo praticamente siamo andati a individuare quelli che sono i nostri ruoli aziendali praticamente perché non ci bastava dare diciamo associare ad ogni persona una seniority ma anche capire quella persona che cosa concretamente andava a fare e quindi andare a dettagliare per ognuna dei nostri colleghi quelle che sono le competenze core per il ruolo che deve svolgere e quindi noi ci abbiamo proprio basato un modello professionale sulle competenze che non sono solo verticali quindi non sono competenze solo verticali come anche lei sottolineava ma anche competenze trasversali chiaramente competenze trasversali che avranno un peso diverso a seconda della seniority perché è chiaro che se io devo andare a valutare in un processo di recruiting e penso lo stesso anche i colleghi uno junior non utilizzerò lo stesso criterio per andare a valutare una persona di esperienza per cui per una persona di esperienza magari posso andare a valutare di più gestione delle riunioni o negoziazione rispetto appunto a analisi problem solving che sono e lavoro in team teamwork che sono invece le competenze trasversali che osserviamo di più per la selezione dei neolaureati quindi per noi le competenze sono fondamentali faccio la citazione del nostro direttore del personale io non sono laureata in economia vengo anche io da un'estrazione come il collega umanistica e quindi sono una psicologa molto lontana da quelle che sono le logiche di chi studia economia però lui dice sempre che praticamente se dovessimo fare un parallelismo nell'azienda il conto economico e lo stato patrimoniale stanno praticamente alle performance e alle competenze cioè un'azienda come la nostra che è un'azienda di consulenza noi vendiamo competenze e quindi per essere competitivi sul mercato noi dobbiamo curare le competenze tanto che oltre ad avere un'academy interna quindi un catalogo formativo molto ricco che dettaglia per ogni seniority come si possono sviluppare attraverso una serie di titoli proprio di corsi le diverse competenze abbiamo istituito all'interno dell'azienda una figura che si chiama il trustee cioè il fiduciario proprio aziendale del responsabile che si deve occupare dello sviluppo delle competenze delle persone che gli sono state affidate sia trasversali chiaramente che verticali grazie grazie Raffaella passiamo la parola Alessandro Michali di GM Servizi allora innanzitutto grazie grazie all'università grazie per questo invito io per prima cosa visti i nomi anche che ci sono in gioco spendo due parole per presentare GM Servizi anche perché qui sono tutti giganti voi giustamente ma GM Servizi ma chi è allora GM Servizi è una è una tipica PM italiana di fatto noi siamo un'azienda che oggi conta poco più di 200 persone distribuite sul territorio nazionale e facciamo quelle attività che sono state descritte dal professore prima di cui non ricordo il nome purtroppo cioè siamo una tipica ICT company con due BU più una che stiamo costruendo una BU è legata al mondo dei servizi in ambito network quindi tipicamente tutte attività che riguardano la parte di pianificazione di redi radio mobili ottimizzazione di redi radio mobili e così via e così via un'altra BU è più legata al mondo dei servizi IT e un'altra al mondo dell'IoT allora io riprendo un po' quanto hanno detto i colleghi che sicuramente sono temi interessanti e sono temi che noi condividiamo con una piccola diciamo non così piccola poi nella realtà aggiunta di fatto la dimensione in questo mondo conta è una piccola e media impresa chi lavora in una piccola e media impresa si trova a dover fronteggiare una serie di problemi in maniera molto più lasciatemi dire questo termine molto più feroce rispetto ad una grande realtà questo è il brutto ovviamente perché una piccola media impresa si trova a dover fare i conti direttamente con il cliente senza come dire grandi diaframmi ok ma è anche il bello il bello qual è il bello è che da noi le persone soprattutto i ragazzi che noi cerchiamo in continuazione per seguire alcuni progetti che abbiamo con vari operatori di telecomunicazioni la telecom a vota con e così via non vengono quello che dico sempre è che da noi non si viene mai a fare fotocopie mettiamola in questi termini da noi quello che si viene a fare si viene immediatamente a lavorare ma questa cosa quando dico immediatamente vuol dire che dal secondo giorno ci si interfaccia durante lo stage ci si interfaccia immediatamente con il referente telecom vi faccio un esempio per il progetto di installation e commissioning che stiamo seguendo per il sito di non so dove e quindi mi ricollego a quello che diceva che diceva il collega di Accenture è vero che esiste il saper fare il saper essere da noi c'è una cosa in più mi permetto di dire che ha definito bene Heidegger Heidegger era un filosofo non so di quanti voi lo conoscono penso Heidegger era un filosofo che faceva una distinzione tra l'essere e l'esserci cioè l'essere nel mondo noi abbiamo bisogno di persone che sono nel mondo cioè sono nella realtà pratica di tutti i giorni cioè tradotto questo che cosa significa noi facciamo ad esempio attività di quality assurance per le reti radiomobili che vuol dire che i nostri ingegneri salgono in macchina e fanno attività di drive test per capire se una rete sta performando bene o non sta performando bene no un operatore come fa a capire sta roba monti in macchina con un'apparecchiatura che costa più o meno intorno ai 200.000 euro dentro sta macchinetta e tu giri insomma ve lo faccio breve qualche tempo fa girando da queste parti qua vicino qua dietro al nostro ingegnere a un certo punto comincia a vedere un paio di persone col motorino perché tutti fermi e fai e vedi ma qua funziona l'LTE funziona il 3G funziona il 4G funziona ok va bene poi riparti dopo un po' che vedete che questi lo seguono ovviamente l'ingegnere che ha capito che l'avevano puntato e quindi volevano fermarli per rubargli tutto quindi il punto qual è rubare tutto lì significa che l'azienda ha una perdita di 200.000 euro di strumentazione allora quello che noi stiamo cercando adesso vi ho raccontato questa aneddota per farvi capire sono persone che abbiano la capacità di uno prendersi in carico i problemi due andare a vedere i problemi con un'ottica diversa il più delle volte le soluzioni non stanno mai davanti è questo il problema il più delle volte le soluzioni bisogna avere la forza l'energia e la capacità di girarsi di fare un giro io quello che dico sempre qui c'è Valentina che lavora con me lei lavora proprio sulla parte HR quello che dico sempre è quando noi facciamo gli assessment perché pure noi facciamo gli assessment facciamo tutto quando facciamo gli assessment e quando dobbiamo valutare gli stagisti dobbiamo capire se questi ragazzi si pongono il problema e cercano delle soluzioni che alle volte sono da altre parti non stanno davanti a voi quindi per questo mi ricollego al tema di prima della creatività perché se ci fermiamo ad una soluzione che sia semplice purtroppo non arriveremo mai da nessuna parte questa è la triste realtà grazie grazie Alessandro un'ultima domanda ai quattro relatori abbiamo detto io credo tutto come sono i comportamenti anche fisici di fronte al recruiter una volta si diceva uno non deve mai stare con le mani così perché sembra che ti stai difendendo sempre avere una postura molto fiera quando ti fanno una domanda se guardi sopra vuol dire che non lo sai se guardi sotto vuol dire che stai mentendo se guardi dalla finestra vuol dire che stai scappando ha un senso è vero sono leggende metropolitane oppure voi diciamo tenete in conto cioè se uno sta così sbragato oppure uno sta così scusate mi fa molto sorridere questa domanda perché secondo me non lo so nel mondo un po' ICT sono saltate tutte le regole cioè nel senso si è perso non so se è un fatto generazionale o di corso di studi me lo chiedo tutti i giorni per cui vediamo veramente persone che arrivano a colloquio a volte in una maniera indecente ma cioè nel senso è come se si è passato cioè è vero che la forma non conta e conta il contenuto ma si è passato quasi adesso in maniera a volte anche arrogante perché alcuni sono anche maleducati alcuni candidati Accenture la forma conta no conta no ma conta no conta a prescindere la forma perché comunque anche se una persona ha un contenuto quello che arriva prima a prescindere da tutto è la forma cioè non ci possiamo prendere in giro è chiaro che ci deve essere anche un contenuto la cravatta firmata ragazzi no 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 non parlo di quello no non parlo di la cravatta firmata conta il colloquio conta la buona educazione innanzitutto il rispetto dell'altra persona è una forma che sia non dico che una persona debba venire no però cioè a volte ci si può trovare a fare il colloquio cioè per esempio una volta ho fatto il colloquio ad uno sviluppatore che era restate è venuto infradito cioè però può capitare non so se vi è capitato delle situazioni magari ho fatto un esempio eccessivo è un modello Google Silicon Valley che vabbè che per carità cioè siamo noi i primi a valutare il contenuto altrimenti non faremmo assessment di gruppo e non valuteremmo tutte le competenze che valutiamo quindi sicuramente al contenuto diamo più forma diamo più importanza però mi fa sorridere questa domanda perché a volte dico si è passati quasi all'eccesso cioè la forma non conta conta il contenuto ma stiamo andando verso proprio completamente la posizione opposta io dico che nel mezzo è sempre la nel mezzo in medio sta virtus dai come dicevano posso intervenire e dire questa cosa sono curiosa infatti dell'esperienza dei miei colleghi allora io sono di un'idea c'è un bel libro che si chiama Quiet di Susan Cain che parla del potere degli introversi avrete capito che io sono non sono ingegnere Susan Cain fa una ricostruzione abbastanza interessante di come si è arrivati a costruire dei modelli di competenze che oggi sono i modelli di competenze in voga ad Harvard a Princeton cioè a tutte queste grandi università americane che dettano di fatto le regole poi del gioco poi lei a un certo punto fa una riflessione e dice il mondo in cui noi viviamo cioè tutto quello che abbiamo visto là di fatto è stato creato da gente che stava dentro a dei garage in ciavatte come si dice a Roma con la barba lunga perché di fatto Wozniak togliamo i vari jobs ma erano dei nerd cioè era gente che aveva una testa che andava oltre che non gliene fregava nulla di andare in giro con camicia a fiori o con l'infradito poi condivido però magari lo scegli se sai che deve rimanere in sede se lo devi mandare dal cliente giusto giustissimo condivido condivido pienamente perché se io devo andarmi a cercare un PM che deve andare a parlare con la parte acquisti o tecnologi di telecom è chiaro che io non posso prendere una persona però non ha un peso quello assolutamente sì dipende dalla persona che vuole selezionare assolutamente sì assolutamente sì però sul tema delle competenze digitali cioè sul tema di chi poi alla fine deve fare un certo tipo di mestieri a me quello che interessa è che tu mi venga con la camicia a fiori ma che tu sia un fottutissimo genio cioè che tu abbia la testa che ti funziona perché a quel punto tu mi dai dipende 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 se io cerco la persona che mi deve trovare se lo devo mettere nel mio che le posso dire centro di ricerca e sviluppo a Cosenza in connessione con il giapponismo cosa se io lo so che devo mandarlo dal cliente in telecom il giorno dopo è un'altra se no facciamo filosofia mio consiglio volete sapere il mio consiglio mio consiglio ragazzi moderati allora ragazzi vestito blu una bella cravatta elegante firmata costosa perché le aziende guardano queste cose ragazzi in minigonna ragazze in gonna assolutamente anche questo non è vero assolutamente posso dire una cosa assolutamente no scusate posso fare una domanda approfitto visto che ci avviciniamo verso la chiusura io ai nostri studenti parlo almeno per me consiglio sempre di andare a fare il colloquio nelle aziende perché penso che è sempre un'esperienza formativa perché sembra facile scontato però è diciamo il primo contatto dove voi andate a casa degli altri quindi capite il linguaggio capite il contesto e quindi anche fare i colloqui anche io non ho fatti tanti alcuni buoni alcuni che sono dati con esito cattivo negativo però io li consiglio sempre penso che anche i nostri colleghi i miei colleghi il messaggio è dovete fare esperienze quindi il colloquio quindi volevo chiedere da 4 HR manager specialist come voi avete questa nostra stessa visione cioè i colloqui fateli perché sono comunque rappresentano un momento formativo comunque il colloquio deve essere visto come un momento di condivisione di conoscenza è un momento in cui c'è una valutazione reciproca il colloquio di solito viene visto come un momento in cui il recruiter valuta il candidato ma in realtà anche voi dovete valutare l'azienda quindi dal colloquio percepite qual è la cultura aziendale poi vorrei sfatare diciamo delle leggende metropolitane quelle prima citate non è vero cioè noi è cambiato scusa se ti interrompo rispetto a 25 anni fa è cambiato molto hanno ragione quello che emerge nel processo di selezione è il buonsenso cioè voglio dire noi facciamo leva sull'intelligenza sociale di ognuno di voi è come se voi andaste in chiesa nudi no ogni luogo ha un suo dress code oppure non lo so ha un matrimonio non lo so in un abito che non è un abito da matrimonio quindi in realtà ogni luogo soprattutto il luogo di lavoro ha delle formalità che siano poi descritte con la giacca e la gravatta questo no quindi se volete mettere la giacca e la gravatta voi maschietti lo potete fare oppure solo una giacca oppure un casual elegante tenete presente che insomma farete conoscenza entrerete in un contesto aziendale poi come diceva la collega devo essere sincero i millennials si presentano in modi anche variopinti alcuni diciamo un po' sui generis posso capire e lì subentra il discorso che facevo prima sulla cultura aziendale Google se lo può permettere alcuni ad esempio anche aziende come Accenture o aziende dei colleghi che hanno dei centri di sviluppo di ricerca e sviluppo non si ha il contatto con con i clienti è normale che si è vestiti più casual certo è un casual che non è un casual disordinato c'è sempre il buon gusto voglio dire per il rispetto degli altri quindi in realtà la selezione segue delle logiche che sono legate come dicevo prima al ruolo che si andrà a ricoprire e alla cultura aziendale poi l'idea passata di quelle società come eventualmente lo era under second starting e così via sono delle realtà ormai passate c'è un'evoluzione tecnologica ma c'è anche un'evoluzione culturale all'interno delle aziende non so se ci sono domande da parte dei ragazzi delle curiosità domande io una curiosità ce l'avrei durante i colloqui che fate adesso il 2018 in prospettiva per le prossime figure professionali che peso ha anche la creatività digitale cioè il fatto di essere uno start-upper di aver avuto un'iniziativa più o meno importante con la propria attività o una prima esperienza lavorativa prima di arrivare da voi anche se non è un laureato cioè ad oggi questa caratteristica assume un valore viene premiato un punto premiante e se sì come quando e perché per noi sì c'è un ragazzo che non è stato fermo all'università solo per esempio a studiare ma ha fatto delle esperienze che possono essere ma veramente dall'erasmus a molti tirocini in azienda è una persona che per noi sicuramente ha grande valore per esempio le ore di tirocinio che nell'università vi è richiesto ai ragazzi magari qualcuno le può vedere come una seccatura invece sono fondamentali perché le conoscenze così apprese solo teoricamente vanno bene ma se non si ha la possibilità di applicarle di esercitarle si perdono quindi insomma l'aspetto pratico è fondamentale il fatto che un ragazzo abbia che ne so ha fatto parte abbia provato a avviare una start-up eccetera sicuramente mi dice che è una persona molto curiosa molto curiosa è una persona che è anche imprenditore di se stesso cioè il che va bene anche all'interno di un'azienda perché una volta che si entra in azienda non c'è la logica che io entro e poi l'azienda diciamo passo passo mi deve guidare ci sono degli scatti no a seconda di quanti anni sono in azienda divento da junior a consultant no l'azienda ti dà delle opportunità bisogna essere anche bravi a coglierle e quindi bisogna essere proprio imprenditori di se stessi ma banalmente anche nello junior quindi sono la capacità dello spirito di iniziativa e soprattutto appunto la curiosità non so se penso a qualcuno a cui ho fatto il colloquio in passato peraltro che abbiamo inserito proprio nell'area della consulting lavorava in una start-up un ragazzo sinceramente che non si stanca mai di imparare e che quindi si rimette continuamente in gioco e imparare è fondamentale perché viviamo in un contesto dove la tecnologia va velocissimo se le competenze non gli stanno dietro e se quindi anche voi non vi interessate a quelle che sono i nuovi trend le nuove tecnologie le competenze da sviluppare e cercate di esercitarle già adesso è un problema perché si rimane indietro vorrei aggiungere una cosa sono d'accordo con quello che dice la collega quindi creatività spirito di iniziativa la responsabilità lo spirito imprenditoriale prima abbiamo parlato della collaborazione secondo me questo è fondamentale e un elemento cardine a mio avviso è la passione cioè io faccio un appello a voi ragazzi di scegliere l'azienda e il mestiere che poi vi appassiona cioè è la passione che dà quella marcia in più che ti dà la possibilità di affrontare il lavoro le difficoltà nel lavoro con un piglio che poi è evidente è evidente e diciamo che emerge immediatamente all'interno di un team quando una persona è appassionata poi esistono n competenze trasversali penso che non è il luogo per elencarle tutte però a mio avviso quelle che diceva la collega e la passione sono fondamentali quindi vi auspico di trovare un lavoro che vi appassiona giorno per giorno allora un ultimo intervento grazie volevo integrare giusto con un bit quanto correttamente riportato dalla mia collega perché chiaramente io vengo uno step dopo a quello che fa la mia collega io mi occupo di fare la parte di colloquio tecnico per l'inserimento delle risorse in consulting giusto per dare una risposta al professore è chiaro che noi guardiamo anche alla propensione verso il digitale ma la cosa fondamentale per noi quella che noi chiediamo ad un colloquio è la capacità di saper risolvere problemi complessi in contesti totalmente sconosciuti per fare questo esercizio basta conoscere semplicemente le quattro operazioni e questo ve lo garantisco oggigiorno quello che succede molto spesso non in questo caso non a Tor Vergata questo lo volevo precisare e mi è capitato con dei laureati in matematica dove sapevano risolvere a mente un integrale ma avevano problemi poi dopo a fare calcoli delle quattro operazioni a mente quindi i nostri casi sono casi molto semplici l'importante è utilizzare tutti gli strumenti che correttamente vi danno i professori ma che sono degli strumenti finalizzati a risolvere dei problemi più o meno complessi questo è quello che noi cerchiamo perché voi avete quella che mio nonno chiamava la cassetta degli attrezzi ce l'avete piena zeppa di tantissime cose importanti la dovete tirare fuori e finalizzare barra utilizzare alla risoluzione dei problemi complessi l'integrale non è una cosa fino a se stessa va capito dove devo usarlo questa è la chiave per poter entrare a far parte di un'azienda di consulenza come entity data io parlo per l'ammanagement consulting chiaramente quindi è chiaro che noi proponiamo problematiche anche in voga no? devo aprire una nuova branch oppure devo aprire una start up faccio uno degli esempi sono un sartoriale italiano ok quindi sapete che l'Italia è un'eccellenza ho deciso di fare un investimento all'estero voglio aprire in Germania i casi che noi facciamo sono questi e la domanda è mi conviene che cosa faccio apro in Germania come lo faccio faccio export oppure metto una factory in Germania vi garantisco che per risolvere un problema del genere no? perché la risposta che noi cerchiamo non è il business case fino all'ultimo bit è la decisione manageriale che ti porta a prendere una decisione in 30 minuti non dovendo necessariamente fare un esercizio che dura mesi perché a noi i clienti ci chiedono continuamente di dire devo fare e mi ci sono trovato di fronte devo abbattere i costi del mio data center mi serve per domani finito questa è la traccia signori questo è il modo in cui siamo stati abituati a lavorare i dati te li devi cercare devi fare delle assunzioni e devi trovare dei modelli a supporto delle soluzioni dei problemi che ti consentano di fare le assunzioni valide per cui con un chiaramente con un margine con una contingency di accettabilità è più corretto un modello piuttosto che l'altro quindi questo è quello a cui noi tendiamo in questo momento al di là da quelle che sono le competenze verticali e trasversali che chiaramente poi si vanno a raffinare nel percorso formativo professionale grazie ha detto una cosa giustissima io bravissimo confermo in 20-25 anni di business plan avrò fatto 2000-3000 business plan non ho mai utilizzato delle formule superiori a quelle che sono il conoscimento di uno studente di quinta elementare di quinta elementare questo che cosa significa significa che conta il principio del conto della serva cioè uno per due per tre diviso cioè voi quando farete i modelli economici la matematica è semplicissima perché il conoscimento sta nella testa nel capire non farete mai un business case o un business plan per arrivare a definire il numero che spacca il capello perché non lo saprete mai nessuno saprà quello che succederà fra cinque anni fra dieci anni quanto venderanno i venditori quello che sarà il flusso di cassa il tasso interno di rendimento quello che voi farete nelle aziende a livello di marketing e di economia sono dei modelli di simulazione quindi fare degli scenari se queste sono diciamo se le assunzioni sono queste il risultato è questo quindi diciamo è tutto un processo diciamo di di intelligenza dove quello che conta è la vostra intelligenza diciamo i dati che siete in grado di reperire diciamo e quella che è l'abbiamo detto tantissime volte un'intelligenza a 360 gradi quindi cercare di capire a 360 gradi il fenomeno quando fate un business case quindi sono assolutamente completamente d'accordo anzi vi dirò una mia esperienza di analista finanziario più è complicato un modello Excel e più è fatto male io molte volte ho visto modelli di Accenture di McKinsey di Ernest & Young quando vedevo questi business plan di 100 fogli Excel in cui tu entri dentro non sai dove stai non sai quella è la prima pagina l'ultima io dico no ho fatto male un modello se voi nel giro di tre minuti non capite come funziona un business plan vuol dire che chi l'ha fatto non lo sa fare cioè uno deve diciamo le cose diciamo voi le capite quando le sapete spiegare soprattutto il business plan cioè una cosa l'avete capita quando siete in grado di spiegarla che fa il business plan di 70 80 io ho fatto sempre la guerra dentro quando stavo in Ernest & Young vent'anni fa diciamo per insegnare anche i ragazzi diciamo quando io poi ho fatto 4 anni sono diventato senior manager e ho insegnato come si facevano i corsi come si facevano i business plan quindi conti della serva molto semplici perché quello che conta è l'intelligenza quindi non dovete avere paura della matematica della statistica nessuna paura i modelli sono semplici più li fate semplici e poi li dovete confrontare con gli altri diciamo più si confrontano con gli altri e più i modelli diciamo si avvicinano alla realtà io diciamo ringrazio tutti quanti lascio la parola grazie grazie dottor Decila Maurizio allora io ringrazio tutti gli intervenuti perché penso che anche questa edizione della lezione con le imprese si è rivelata densa di contenuti di interventi preziosi per voi ragazzi in particolare questo di oggi su recruitment penso che queste iniziative possano aiutare l'università anche ad avvicinarsi alle imprese e viceversa quindi soprattutto in un mercato del lavoro in rapida evoluzione in cambiamento continuo e quindi spero davvero di potervi avere ancora nelle prossime edizioni da dedicare magari proprio al recruitment quindi la riorganizziamo dedicando la propria recruitment oltre poi ai seminari più tecnici più tecnologici con uno sguardo prospettico io chiamerei il professor Giordani a chiusura di questa giornata e vi ringrazio ancora tutti per l'intervento mi unisco ai ringraziamenti di Alessandro ovviamente la giornata è stata veramente profigua immagino soprattutto per gli studenti che hanno avuto modo di apprezzare il punto di vista delle aziende quindi credo che questa giornata di oggi sia stata veramente molto più formativa di due o tre ore di lezione immagino mi metto dal punto di vista vostro è stato dato chiaro evidenza quelli che sono gli skill in particolare gli skill trasversali che risultano essere molto importanti al di là adesso anche degli skill verticali quelli specifici sul mondo digitale e crediamo che insomma il nostro corso di studi in termini di skill trasversali sia un po' la punta di un percorso di ingegneria e con questo augurio in sostanza che vi lasciamo e ringraziamo ancora una volta le aziende che hanno partecipato a questo evento e alla prossima occasione ci sarà senz'altro a breve una prossima occasione per questo tipo di evento vi daremo appuntamento poi dopo l'estate ovviamente per chi poi proseguirà il corso di studi grazie ancora a tutti grazie per questo pomeriggio bello insomma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti